Il Medioevo è un'epoca storica molto lunga che convenzionalmente ha inizio con la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C. e che si conclude sempre convenzionalmente con la scoperta del continente americano da parte di Cristoforo Colombo nel 1492. Questo arco di tempo di circa mille anni si suddivide in due fasi. L'Alto Medioevo dalla seconda metà del V secolo all'XI secolo e il Basso Medioevo dall'XI al XV secolo. Il termine Medioevo significa età di mezzo. Esso è stato coniato dagli intellettuali italiani del XV secolo, gli umanisti, per indicare una sorta di parentesi, un lungo periodo di decadenza collocato tra lo splendore culturale, politico e sociale dell'età classica e la nuova epoca dell'umanesimo, un'epoca di rinascita e di rinnovamento resa possibile proprio dalla riscoperta e dall'imitazione della civiltà degli antichi. Il termine Medioevo nasce quindi con una connotazione negativa che persiste fino alla fine del Settecento con l'illuminismo, che la dipinse come un'epoca dominata dalla superstizione e dal fanatismo religioso in opposizione ai nuovi valori della ragione, della libertà e del progresso. Per gli illuministi, inoltre, il Medioevo rappresentava l'epoca in cui si era affermato il modello di società autoritario feudale che aveva il suo vertice nell'assolutismo del potere monarchico, modello che essi intendevano abbattere. La rivalutazione del Medioevo, iniziata con il Romanticismo, è stata portata avanti dalla stereografia moderna, che ha demolito l'immagine unitaria e negativa di quest'epoca. Essa è invece una fase storica ricca e complessa, contraddistinta da momenti di crisi e di sviluppo, da fenomeni negativi e positivi. Sotto questo aspetto, la definizione più interessante di Medioevo è quella dello scrittore e studioso Umberto Eco. Il Medioevo è il periodo che, iniziando mentre l'impero romano si dissolve, fondendo la cultura latina con quella dei popoli che hanno gradatamente invaso l'impero con il cristianesimo come collante, dà vita a quella che oggi chiamiamo Europa, con le sue nazioni, le lingue che ancora parliamo e le istituzioni che, sia pure attraverso cambiamenti e rivoluzioni, sono ancora le nostre.